Come abbiamo fatto con tanti altri sportivi spontanei, con tante altre associazioni di squadre spontanei, penso è doveroso da parte dell'amministrazione riconoscere e dare un premio a chi si è distinto a portare il nome della città di Monti in giro in Italia o anche all'estero, mettendo esatto quello che è la nostra città, quello che sono i nostri sportivi, quindi un minimo di più faccio i miei complimenti a Simone per il campionato da Rilano Master di Dall'Eto Vito e il gale poi in un altro particolare della città di Fortuni, che è di cercare quello sport, quindi doppi complimenti per il sport. Grazie Simone, perché questa Italia non è solo un riconoscimento al suo valore, ma credo che ci sia un valore più grande che è quello di un riconoscimento alla nostra città di Fortuni, perché andare in giro con l'Italia o in Europa e parlare di Fortuni è un riconoscimento alla nostra fondalità, significa specializzare, servire, far conoscere la nostra città, quindi anche a questo, ma anche a quello che è un sport significa. lo abbiamo detto ieri quando per la terza volta c'è stata riconosciuta con di città europea dello sport, dove abbiamo tutti condiviso il fatto che il sport è un valore di solidarietà, è un valore per l'indicazione, per l'inclusione, per l'amicizia, ma è soprattutto un valore per l'indicazione. E se parliamo di emozione, se potete ripudire l'emozione a raggiungere qualche giorno fa, ho dovuto constatare che la persona quando, sempre nell'ambito, come in città europea dello sport, ho sentito una partita di basket di ragazzi con disabilità. in particolare erano ragazzi con la sindrome down e lo venivano da tutta Italia, con le loro famiglie, con i genitori, e quindi immaginate l'emozione a ragione che proviamo quando ci esistono a tutti gli eventi. Oggi tu hai portato con te, portando con l'amica, hai portato con te tantissimi bambini, tantissime famiglie, e questo regna il tuo valore, il tuo valore, il tuo valore sostenuto. Quindi da parte della nostra comunità, ringrazio e grazie, siamo vicini, a tutti gli auguri, perché a questa medaglia ne possono dire altre, perché egoisticamente, oltre al tuo medaglio, l'ho detto, è sempre la città dei conti che lo ha fatto. Grazie. 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 Sicuramente il maestro vi augura che quando lui avrà 40 e 50 anni ci siano tanti canzioni che stanno male. Eh? Grazie. Grazie.